Riparliamoci della città metropolitana di Firenze. È il titolo del questionario rivolto ai cittadini della metrocittà in vista dell'aggiornamento del piano strategico metropolitano a tre anni dalla sua approvazione. Strumento, quello del piano strategico, utile per individuare e programmare le principali strategie e i processi di sviluppo economico nell'area metropolitana piorentina. Questa forma di monitoraggio era già stata proposta ai cittadini in passato, ovvero nella fase di stesura del piano, e oggi torna con la finalità di capire innanzitutto l'evoluzione della percezione che la comunità locale ha dell'ente metropolitano. L'obiettivo è quindi rilevare se e come le aspettative dei cittadini nei confronti della metrocittà sono variate, ma servirà anche per comprendere come sono cambiate le loro esigenze nel corso di questi anni. Nel caso specifico, gli utenti sono chiamati a rispondere a 11 domande costruite sulle vision che confongono il piano denominato Rinascimento Metropolitano. I cittadini quindi forniranno il proprio punto di vista su come migliorare e favorire gli spostamenti nella città metropolitana, i servizi ai cittadini, lo sviluppo economico e del turismo, ma potranno anche pronunciarsi sul proprio senso di appartenenza e coinvolgimento nelle questioni legate all'area metropolitana. Il questionario è indirizzato a tutti i cittadini del territorio metropolitano e sarà attivo fino al giorno 15 gennaio 2021 sul sito www.cittametropolitana.fi.it